Uo Gero, squillano le tombe, Alcibaldo, usami la cortesia di andare a abbassare il ponte elevatorio. Deve essere appoggiatissimo editore. Oh, ben arrivato, appoggiato editore. Conte Paolo Maria Montaldo, i miei ossequi, complimenti per questo monolocale che si è acquistato grazie ai diritti di H.I.J. e il suo libro precedente, ma ho qui l'elenco delle presentazioni del suo prossimo libro. Alcibaldo, usami la cortesia di portare Uo Gero a correre. Prego. Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Olbia, Tempio, Francoforte, Torino, Milano. Gondor, Vega, Luna, Filadelfia, Aprodo del Re. Cagliarello, 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 Marte, Dune, Crastan, Pistera. Va bene. Ma, poggiato editore, sono 2333 presentazioni. Se anche ne facessi 4 al giorno, non mi basterebbe una vita. Ma, poggiato editore, non mi basterebbe una vita. Grazie. Grazie.